Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, si prepara ad ospitare un altro evento nazionale. Si tratta del convegno Commercialisti NEX, generazione di professionisti verso nuovi scenari. L'ordine nazionale ha infatti scelto la città pesarese come comune ospitante per un evento che guarda il futuro della professione. È un evento molto importante che si abbina al fatto che Pesaro quest'anno è capitale italiana della cultura 2024. Questo è un evento culturale, è un convegno, è una formazione sul futuro della professione, sul futuro dell'economia. Si parlerà di digitalizzazione, di sostenibilità, di etica del lavoro e dell'impegno e quindi tutti elementi che sono importanti per lo sviluppo sia dell'economia ma anche e soprattutto della nostra professione. Ci sarà un dialogo con i giovani, cercheremo di ascoltare le loro richieste, le loro problematiche per poterli, diciamo così, delineare le linee guida della professione futura assieme ai giovani. Il convegno non sarà composto solo da panel ma anche da momenti di divertimento e confronto che vedranno la partecipazione di volti noti della cinema, dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria. La sera avremo una cena di gala che faremo alla Vitri Frigo Arena, qui sempre di Pesaro perché saremo oltre mille i partecipanti e per cui avremo necessità di uno spazio, diciamo così, adeguato. Ci sarà il comico albanese che parlerà sulle diverse questioni dell'economia con un taglio comico e quindi faremo delle riflessioni ridendo sul futuro sia del nostro paese che della professione. Nel giorno invece seguente avremo tutti i personaggi di successo che nei vari aspetti dell'economia, che vanno diciamo dallo sport, infatti sarà presente Bergomi, Caressa, come conduttore televisivo, ma ci saranno anche degli imprenditori di primo piano come i Guzzini e tutti insieme spiegheranno qual è la formula, quali sono gli elementi comuni che portano al successo nella vita professionale. Lo sguardo del convegno è rivolto al futuro e all'accambiamento dettato dal progresso. Obiettivo quindi della Due Giorni sarà anche quello di scoprire come si sta evolvendo la professione dei commercialisti. La nostra professione si è molto evoluta perché partendo da quello che era un po' il caposaldo, che era la consulenza fiscale, oggi si sta modificando tanto. Quindi lo scopo, che è quello anche promosso dalla fondazione, è quello di spingere i giovani verso nuove attività che sono offerte, ad esempio con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, verso quali i giovani chiaramente sono anche più portati di noi professionisti un po' più anziani, la sostenibilità, la sicurezza, che sono argomenti che non riguardano solo le aziende, ma riguardano la società più in generale. E su questo vorremmo tentare di dare il nostro contributo anche all'interno di queste due giornate del convegno.